Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita in Abruzzo del segretario generale della FIOM Francesca Redavid per i 120 anni del sindacato dei metalmeccanici. Nell'occasione è stata ribadita la mancanza di condivisione con la scelta del governo sul Green Pass nei luoghi di lavoro. Andrea Costantini. Il Green Pass nei luoghi di lavoro è una scelta che non convince. La strada principale è l'obbligo vaccinale. Una presa di posizione che la FIOM ha ribadito con forza attraverso il segretario generale Francesca Redavid stamani a Pineto in occasione di FIOM in festa, evento che celebra i 120 anni del sindacato dei metalmeccanici. I metalmeccanici hanno scioperato per far chiudere le fabbriche quando le imprese volevano tenerle aperte a tutti i costi e le terapie intensive erano piene e ci dicevano che eravamo degli irresponsabili. Questo naturalmente per la salute di tutto il paese. Hanno ottenuto i protocolli per la sicurezza, che hanno messo le fabbriche in sicurezza con i distanziamenti, i plexigliali, le mense e una condivisione delle scelte tra impresa e lavoratori. Oggi questa scelta noi non la condividiamo, avremmo preferito e voluto il vaccino perché il paese non è fatto solo di lavoratori, è fatto anche di pensionati, è fatto di persone fragili che sono fuori dal mondo del lavoro e pensavamo che ci doveva essere il coraggio di fare il vaccino come è stato fatto nella storia, sulla polio eccetera. Il governo ha fatto un'altra scelta, ancora il decreto non è uscito perché non è una scelta facile da gestire, vedremo quando uscirà il decreto e naturalmente adesso c'è questa norma e con questa norma faremo i conti nei luoghi di lavoro e credo che sarà molto complesso. Un momento di confronto, quello di questa mattina al polifunzionale di Pineto, alla presenza dei vertici locali della FIOM, il segretario Abruzzo e Morisi Alfredo Fecatelli e quello di Teramo Natascia Innamorati, con l'obiettivo di ricordare cosa è stato il sindacato in questo secolo e oltre di storia. I metalmeccanici vanno dagli informatici e siderurgici, sono quasi solo due milioni e mezzo di lavoratori e quindi è una categoria molto larga e così è stato fin dalle origini. E' quindi una categoria che ha dentro di sé un'idea di solidarietà e della messa insieme delle lavoratrici e dei lavoratori. Una solidarietà e una messa insieme che in questi due anni di Covid hanno dimostrato la loro importanza e la loro coerenza nelle scelte che abbiamo fatto sicurezza alle fabbriche e anche il paese. E a proposito di Green Pass, vediamo i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione, sono 65 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2.547 tamponi molecolari, risultato positivo il 2,55% dei campioni. La variazione dei contagi settimanali rispetto a 7 giorni fa è pari almeno 25%. Scende infatti l'incidenza per 100 mila abitanti che ora è a 37. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 3% per le terapie intensive e al 6% per l'area medica, lontano dunque dalle soglie da zona gialla. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 87 anni. Gli attualmente positivi sono 1.958. Il dato dei casi attivi torna sotto quota 2.000 per la prima volta dopo un mese. 82 pazienti più 1 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 6 numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 1.870 sono in isolamento domiciliare. Si registra un decesso recente, si tratta di un 86enne della provincia dell'Aquila. Il bilancio delle vittime sale così a quota 2.537. Vediamo come di consueto anche le variazioni provincia per provincia. 25 casi in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 25 in provincia di Teramo. Nonostante il Green Pass, il Covid continua a creare scompiglio tra le elezioni scolastiche. In Abruzzo sono oltre 120 gli studenti attualmente positivi e con le elezioni in quarantena alcuni studenti sono già tornati alla didattica a distanza. Giuseppe Dintino. Ad una settimana dalla prima campanella, a scuola il Covid crea già i primi problemi, costringendo molti studenti al ritorno alla didattica a distanza. Attualmente sono 127 positivi nelle scuole abruzzesi, di cui 50 nel Teramano, 38 nell'Aquilano, 23 nel Chietino e 16 nel Pescarese. Nella scuola media Ligieri di Spoltore, ad esempio, un caso di positività al virus, ha costretto un'intera sezione alla quarantena. Abbiamo applicato immediatamente il protocollo, ha spiegato al Tg6 il dirigente scolastico. Abbiamo fatto tutte le comunicazioni necessarie per arrivare al dispositivo di quarantena precauzionale per due giorni necessarie per effettuare le verifiche con i tamponi molecolari. Al termine di questi due giorni, durante i quali i ragazzi seguono le lezioni da casa, se i tamponi daranno esito negativo, si tornerà sui banchi. Il timore è quello di una scuola a mozzichi e bocconi, come è accaduto lo scorso anno, cioè pronta a fermarsi sistematicamente. Ma tra vaccini e green pass obbligatorio per accedere negli istituti, c'è fiducia che quest'anno le lezioni saranno in presenza. Non siamo preoccupati perché per noi in questa situazione di routine eravamo preparati a un'eventuale situazione di attenzione all'inizio delle lezioni, quindi abbiamo già predisposto tutto. Non sono preoccupato perché quest'anno abbiamo la copertura vaccinale, il personale coperto dal vaccino, dai dati che mi sono stati riferiti spontaneamente dai docenti, ho potuto inferire che siamo sopra il 93% di personale vaccinato. E il Covid porta con sé anche altri tipi di problemi. Ieri gli studenti del liceo scientifico Masci di Chieti hanno manifestato contro gli orari di ingresso e uscita, scaglionati tra le 9.30 e le 14.30. Alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto, a cui hanno chiesto di rimodulare gli orari che coincidano con quelli dei mezzi pubblici, così che i pendolari non debbano aspettare, in alcuni casi anche per ore, prima che un bus li riporti a casa. Cronaca, sorpreso con armi e munizioni da guerra in casa, è stato arrestato due volte in pochi giorni. Si tratta di un uomo di abbatteggio che deve rispondere di detenzioni di armi da guerra ed evasione. L'uomo durante la serata di sabato, infatti, a seguito di una perquisizione domiciliare, proprio volta alla ricerca di armi, eseguita dai carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stato trovato in possesso di armi e munizioni da guerra. In particolare, nella cantina della sua abitazione sono stati trovati un fucile marca Mannlicher, modello 188-90, calibro 8x52 mm, 5 cartucce calibro 7,62 mm e 199 cartucce calibro 12, oltre ad una baionetta. Il proprietario di casa è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell'udienza di Convalia che si sarebbe tenuta il lunedì successivo. L'arrestato, tuttavia, in violazione della misura precautelare che gli era stata applicata, la serata di domenica è stato sorpreso in un bar della zona dagli stessi militari che lo avevano tratto in arresto il giorno prima e dunque nuovamente arrestato per evasione. Nella giornata di ieri, nel corso dell'udienza presso il Tribunale di Pescara, gli arresti sono stati convalidati. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica. Due giornate abruzzesi per il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è giunto nei maggiori comuni dove presto sarà rinnovato il Consiglio Comunale per sostenere i candidati del Partito Democratico. Un altro big della politica arriva in Abruzzo per le amministrative. A sostegno dei candidati del PD non c'è però il segretario nazionale Enrico Letta, ma il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Bonaccini è in forte ascesa all'interno del Nazareno ed è lui a fare da sponsor ai candidati sindaco. Ieri era a Lanciano e a Vasto, a sostegno rispettivamente di Leo Marongiu e Francesco Menna. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Roseto e Sulmona per Sabatino di Girolamo e Gianfranco di Piero. Prima però il governatore Emiliano Romagnolo è stato a Francavilla al mare al fianco dell'assessore uscente Luisa Russo. Il centrosinistra riceverà anche i voti degli elettori schierati su altri fronti ideologici. Le parole di Bonaccini. Bisogna giocare in campo aperto con un'idea molto precisa. Io l'unico consiglio che do è di non parlare degli altri. C'è una politica che solitamente parla male degli avversari. Lasciamolo fare agli altri, ma non ho dubbi che qui il buon governo che si porti in dote sarà la base su cui costruire il successo per la, mi auguro, futura sindaca. Se va come io presumo, cioè che nelle grandi città e non solo, non verranno confermati i sondaggi che nel Paese vedrebbero prevalere questa destra, ma in tante realtà probabilmente vincerà il centrosinistra, vuol dire che c'è una classe dirigente territoriale che è molto più robusta da questa parte piuttosto che dall'altra. Io credo che se andrà come credo io per la prima volta nella destra, nella Lega in particolare, si aprirà un problema. Perché vedo Salvini rincorrere Meloni tutti i giorni, ma poi la gente quando deve votare sceglie l'originale e non la fotocopia. Un po' quello che accadde a noi con i 5 Stelle qualche anno fa. Luisa Russo, attuale assessore al commercio, è sostenuta dal PD, da Azione di Carlo Calenda e dalle civiche Insieme Siamo Francavilla, Alleanza Democratica e dalla lista di Antonio Luciani. Il sindaco usciente, infatti, oggi ha dichiarato che sosterrà la candidata del centrosinistra, ma che in futuro farà un altro percorso, a testimonianza dell'ormai acclarata lontananza del primo cittadino dal PD e dal segretario regionale Michele Fina. A proposito di amministrative a Francavilla, maggiore attenzione alle periferie e alle contrade. Uno dei punti salienti del programma della lista civica Aria Nuova, che alle prossime elezioni a Francavilla al mare sostiene la candidatura a sindaco di Camillo Paolini, che ascoltiamo nell'intervista di Stefano Recanati. Aria Nuova è praticamente una lista civica che guarda a 360 gradi i problemi che sono di Francavilla. Sono stati, dal 2011 c'è questa lista civica, quindi non è una lista civica nata per il momento e neanche una lista civica che morirà dopo le elezioni. Andrà avanti e si occupa di tutte le problematiche connesse con la Francavilla, per quanto riguarda sia l'urbanistica, per quanto riguarda i rifiuti, poi ci sono i problemi che è facile riscontrare a Francavilla, la manutenzione delle strade, che praticamente è un corso disastrosa, poi il discorso della vecchia amministrazione che ha privilegiato solamente la parte centrale di Francavilla, quindi sia per quanto riguarda la Sirena, per quanto riguarda la Sterope, via Alcione etc., tralasciando completamente le contrade, sono tutte abbandonate completamente, quindi noi stiamo da anni parlando e cercando di fare in modo che le contrade vengano ascoltate, ma con scarso risultato, perché a volte punteremo sul turismo, Francavilla posto sul turismo e puntare un attimino anche per quanto riguarda le periferie, per quanto riguarda la campagna, nel senso cercare di fare più mercati rionali, mercati zonali, per cercare un attimino di dare più ossigeno ai contadini locali, anche perché Francavilla c'è un attimino alle spalle, c'è una grossa cultura agricola. Qual è l'obiettivo intanto per le elezioni del 3-4 ottobre? La prima cosa è di fare una bella figura, una buona figura e cercare, se non chiaramente di riuscire come candidato sindaco, ma almeno di spostare un po' l'acqua della bilancia verso altre cose, perché adesso, nel senso, entrare in condivio comunale e cercare di cambiare le cose dal dentro e non dal di fuori. A causa del diffondersi di un cluster di contagio a titolo precauzionale è stata nuovamente chiusa fino al 30 settembre la moschea di Trasacco. Chiude di nuovo la moschea nel comune di Trasacco dopo aver riaperto alla fine dell'estate, era il 20 luglio. Nel mese di giugno scorso, di fatti, già un cluster legato al Covid-19 aveva acceso l'allarme in paese. I casi di positività erano arrivati quasi a quota 40. Più di 20 i contagiati attuali nel comune amministrato dal sindaco Cesidio Lobene, conteggiati dalla ASL 1 nel giro di davvero pochi giorni. Molti dei nuovi positivi sono riferiti alla locale comunità marocchina. Sì, purtroppo c'è stato un aumento di contagio nella popolazione magrebina. Per questo motivo a scopo precauzionale abbiamo deciso di fare un'ordinanza di chiusura fino al 30 settembre a seguito di questi aumenti, anche perché era molto difficile mantenere tutte le precauzioni del caso all'interno di quella struttura. Quindi, ripeto, solamente a titolo precauzionale abbiamo deciso di chiuderla per 15 giorni. Una misura, quella della chiusura della moschea, che già nel passato ha avuto effetti di contenimento e mitigazione del rischio legato al virus rispetto al quadro epidemiologico vissuto in paese e che adesso verrà quindi ripetuta. Non è la prima volta che la moschea viene chiusa a Trasacco? No, purtroppo no. È stata chiusa già in precedenza per circa un mese, per più di un mese. Adesso poi era stata riaperta, però purtroppo ci sono stati sempre questi aumenti di contagi e lì è difficile mantenere le distanze, mantenere tutte le precauzioni del caso e quindi per questo motivo a scopo precauzionale è stata decisa di chiuderla solamente per 15 giorni. Sì, purtroppo ci sono stati anche altri contagi dovuti soprattutto a un'azienda agricola, però il sindaco in primis ha attivato tutte le procedure del caso con l'autorità di competenza, quindi con l'ASL. L'ASL è già attivata e sono stati fatti già tutti i tamponi molecolari in loco e quindi la situazione è completamente sotto controllo. Si parlerà di cibo e alimentazione etica a Teramo dal 23 al 27 settembre. All'evento promosso dal Comune in collaborazione con l'Università di Teramo e la Diocesi di Teramo Atri parteciperanno anche i tre chef stellati. Heinz Beck, Massimo Bottura e Nico Romito. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Insieme per gli SDGS, 5 giornate dedicate all'alimentazione. Dal 23 al 27 settembre a Teramo si parlerà di cibo, benessere, etica e condivisione nella ricerca dell'alta cucina. Il capoluogo aprutino è tra le quattro città italiane scelte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riflettere sugli obiettivi umanitari da raggiungere entro il 2030. L'evento porterà in città come relatori 9 stelle Michelin, gli chef Heinz Beck, Massimo Bottura e Nico Romito che parteciperanno ad un convegno di apertura in Piazza Martiri moderato dal giornalista gastronomo Antonio Paolini. L'iniziativa è del Comune di Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e la Diocesi di Teramo Atri. L'Università sono sicuro che sarà la sede culturale per discutere di problematiche fondamentali. Ricordo gli aspetti legati ai paradossi alimentari, 3 milioni di persone che non hanno accesso al cibo, oltre 2 miliardi di persone collegate con le problematiche dell'obesità, lo spreco superiore al 30%, sono questi gli argomenti che verranno affrontati e gli approcci sostenibili per risolverli e di queste cose si discuterà il 24 dall'Università di Teramo. Riflessioni importanti, quelle che saranno fatte a Teramo nell'ambito delle giornate dedicate all'etica dell'alimentazione. L'obiettivo principale è prevedere la costruzione di una nuova umanità, più nessuno senza cibo e lotta all'obesità. Etica dell'alimentazione come facciamo a riscoprirla? Credo che per riscoprirla bisogna imparare e scoprire perché viviamo e dove viviamo. Noi viviamo in una società contemporanea dove purtroppo tutto è coinvolto e travolto tante volte, penso a le nostre difficoltà di poter avere anche un'attenzione, anche gli orari per la nostra alimentazione. Però credo che noi dobbiamo imparare che l'etica dell'alimentazione o meglio l'attenzione verso l'alimentazione è condizione importante per servire, per essere protagonista della storia. Apriamo adesso la pagina di Sport Serie C. Iniziamo dal Pescara, due gol in ciascuna partita. Funziona con regolarità la fase offensiva del Delfino, dove spesso i protagonisti sono stati i difensori. Si attende dunque un contributo migliore dagli attaccanti. Intervenuto ieri sera a Replay, l'agente Donato di Campli scommette sull'esplosione di Franco Ferrari. E' un Pescara che è andato sempre in gol nelle sei partite ufficiali fin qui disputate. Lo ha fatto 12 volte con una distribuzione equa delle marcature. E' l'applicazione della regola del 2. Questo è il numero dei gol segnati in ognuno di quei match, con vittorie identiche a seconda della competizione. 2-0 ad Olbia e Grosseto in Coppa Italia, 2-1 in campionato, rifilati ad Ancona-Matelica, Carrarese e Aquila-Montevarchi. E poi il 2-2 con la Vispesaro nell'unico pareggio. I Biancazzori in vetta al girone B e al terzo turno di Coppa. Curiosamente il contributo degli attaccanti non è stato così sostanzioso. E non a caso lo stesso allenatore Gaetano Auteri ha parlato di miglioramenti sensibili che si aspetta dagli attaccanti negli ultimi 20 metri. Per ora ci pensano Memusciai e i difensori, soprattutto i cursori di fascia. Il centrocampista e capitano del Delfino ha siglato due reti, medesimo bottino anche per Zappella e Cancellotti a quota 1 onzità e Frascatore. E poi gli attaccanti De Marchi e Clemenza a segno in campionato e Galano e Dursi un gol a testa in Coppa. Per ora le cose vanno bene a livello di risultati ma anche di prestazioni. Ma quando la posta in palio sarà più alta, gli attaccanti dovranno fare la differenza e alcuni di loro in particolare dovranno emergere. Auteri dopo la gara col Montevarchi ha fatto presente che ci sono giocatori al 40-50% e che dovranno crescere velocemente anche perché dopo le gare con Viterbese e Gubbio arriveranno gli sconti diretti a cominciare da quello con la Reggiana. Non ha ancora trovato la via del gol il loco Franco Ferrari su cui ci sono delle aspettative che saranno ripagate secondo Donato di Campli in passato agente dell'attaccante argentino. È un giocatore fortissimo, ha una struttura fisica imponente e ogni anno dove è andato ha fatto benissimo lo scorso anno a Como, contribuì in maniera determinata alla vittoria del Como, ma anche a Piacenza e lo stesso Matteo Assi lo conosce molto bene il giocatore. Il fatto che non giochi non riesco a capire il motivo perché ritengo che in categoria sia sicuramente uno dei più forti. Il loco è un ragazzo straordinario, lui ha una struttura imponente, ha necessità. Nelle ultime due stagioni non ha fatto praticamente mai ritiro. È prematuro dire che il Pescara in avanti potrebbe avere problemi perché ha poi una batteria abbastanza varia di attaccanti. In Serie C credo che sia l'attaccante più forte della Serie C, non ci sono dubbi. Sarà Valerio Crezzini di Siena a dirigere il match di sabato alle 17.30 al Bonolis tra Teramo e Imolese, partita nella quale non giocherà Mugo che domenica scorsa ha riportato una frattura costale che lo terrà fuori per 20-30 giorni. Da a lavorare invece le condizioni del portiere Tozzo della sconfitta contro la Vispesor ha parlato l'attaccante Manuele Malotti che aveva trovato l'illusorio gol del vantaggio, il primo in campionato del Teramo e anche il primo per lui in maglia bianco-rossa. Sicuramente il primo tempo dopo il gol potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0 perché abbiamo avuto un'altra occasione con Gabriele, Bernardotto e un'altra con Rosso. Sul 3-0 il primo tempo se la chiudi è difficile rindirizzarla per gli altri. Poi il calcio è così, sbagli i gol e su due occasioni, una sul rilancio del portiere addirittura, abbiamo preso i gol e poi sono episodi che dobbiamo portare dalla nostra parte e oggi non ci siamo riusciti e c'è un grande rammario. Non siamo riusciti a riprendere in mano perché entra un po' di ansia, non lo so, in campo poi noi mettiamo tutto però a volte non riesci a rimettere le partite come vuoi, ci abbiamo provato in tutte le maniere. Sicuramente sbagliare i gol li abbiamo già sbagliati in qualche partita, a volte forse noi attaccanti siamo un po' egoisti e vogliamo fare gol come tutti. Sicuramente siamo una squadra giovane quindi forse a volte queste situazioni ci prendono un po' la paura però noi sappiamo come giocare, siamo una squadra molto tecnica, dobbiamo imporre il nostro gioco come abbiamo fatto il primo tempo, il secondo tempo ci siamo riusciti un po' meno. alla fine abbiamo voluto un po' forzare le giocate anche io tante volte per cercare di andare a fare gol e noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e gli risultati vengono perché le occasioni si creano. No vabbè l'uscita di Andrea si è sentita di uscire, poi è andato più in alto l'attaccante di testa, ha fatto gol però noi come sbagliamo i gol può sbagliare un'uscita del portiere, può sbagliare un difensore, abbiamo sbagliato tre gol il primo tempo e nessuno ci ha detto niente quindi dobbiamo aiutarci a vicenda e continuare sulla strada tutti insieme perché è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi. Cegliamo in serie D, adesso brucia in casa Pineto la sconfitta nel derby della prima giornata col Castelnuovo, domani alle 15 la gara si ripeterà però per la Coppa Italia, la vincente accederà al secondo turno, ne parla il neoattaccante pinetese Cardella. Sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo, abbiamo preparato bene questa gara, tutta la settimana eravamo stati concentrati, sappiamo che affrontavamo una squadra molto forte, però come spesso accade le prime partite sono tutte un po' un'incognita, non si sa mai come uno sta fisicamente e sono complicate. Sono contento per il gol anche se non è servito a nulla. Sì, stranamente rigiochiamo subito con loro e abbiamo subito la possibilità di rifarci. La Coppa Italia non è una competizione da sottovalutare, è sempre importante fare un risultato positivo e ce la metteremo tutta per rifarci. Mi trovo benissimo, devo dire la verità, con i compagni, con il mister, la società mi ha accolto molto bene. Fin da subito mi hanno cercato e non ho avuto nessun tipo di esitazione nel decidere di venire qui. Sono ambiziosi, il mister comunque vuole fare meglio dell'anno scorso, così come tutta la società e noi stiamo luttando e lavorando per questo. Tutti mi hanno sempre parlato bene, anche ex compagni che sono stati qui come Mazzei che avevo l'anno scorso ad Albano. Mi ha sempre detto che era una società importante, una società dove non faceva mancare nulla ai ragazzi, era ambiziosa, lavorava bene e sapevamo quando siamo venuti qui a fare la semifinale dei play-off che abbiamo trovato una squadra competitiva e forte e quindi ho scelto anche questo perché si è dimostrato così. Per che percentuale sto non lo so, sicuramente è stata una preparazione importante, una preparazione anche di categorie superiori e l'importante per quanto mi riguarda è lavorare bene, cercare di non fermarsi mai soprattutto in questo primo periodo, poi giocando, collegare uno alla condizione e la trova. Personalmente spero di migliorare quello che ho fatto l'anno scorso ma penso sia più fondamentale avere un obiettivo di squadra che è quello di fare meglio della vittoria dei play-off. Dal calcio ci spostiamo al ciclismo, ospite d'onore del trofeo Matteotti, il ciclista abruzzese della Trek Segafredo Giulio Ciccone analizza il successo di Matteo Trentin a pochi giorni dal mondiale in Belgio e guarda al suo futuro soprattutto dopo l'avuelta che non è andata come si aspettava. Giulio bentornato sulle strade del Matteotti dopo un'avuelta che probabilmente non è andata come ti aspettavi, però che Matteotti hai visto? Sicuramente il Matteotti è sempre una cara bellissima. Ti manca non esserci? Dopotutto da vedere. Da vedere, non da fare. No, è meglio vederla sinceramente con gli arrosticini, gli amici, no, però dai scherzi a parte è sempre un piacere essere qui in Abruzzo a queste manifestazioni e niente, per adesso posso solo vederle perché comunque sono ancora fermo per il mio infortunio, spero di recuperare presto e però appunto sto vivendo un periodo un po' difficile da dopo l'avuelta e niente, l'unica speranza è quella di recuperare subito e di tornare competitivo al più presto. Senti, in chiave azzurra tu hai corso l'Olimpiade, tra una settimana si corre in Belgio il Mondiale, Trentin è la nostra carta per cercare di trovare quel successo che due anni fa con Trentin vittorioso qui a Pescara abbiamo mancato di un nulla. Come lo vedi adesso? Beh, sicuramente li porta fortuna a Pescara, quindi due anni fa ci è andato vicino, quest'anno nell'anno buono. No, sicuramente lui è veramente, ormai penso il pilastro della nostra nazionale in alcune situazioni e poi è un mondiale per lui, quindi il percorso adatto, la sua condizione direi che è al top, penso che non manca niente, diciamo c'è solo bisogno un po' di fortuna e che la giornata vada per il verso giusto, ma sicuramente se la potrà giocare. Però è anche vero che manca un particolare, i Belgi e qualche altro fenomeno. Sì, diciamo che così nel singolo loro hanno qualche arma in più, però sono più che convinto che l'Italia con l'unione della squadra e il gruppo può fare la differenza. E per quanto riguarda invece Giulio Ciccone? Ma io per quest'anno, appunto come dicevo prima, penso che la mia stagione ormai sia finita perché comunque c'è rimasto poco spazio per continuare le corse e quindi penso stagione finita e l'obiettivo è quello di riprendere al più presto gli allenamenti e poter fare un po' di riabilitazione e tornare più forte di prima. Con quali programmi 2022? Ma stiamo cercando di capire un attimino, non ci siamo ancora seduti e dobbiamo un attimino valutare quale grande giro, però sicuramente l'obiettivo sarà continuare a tenere duro per fare una classifica in un grande giro, che sia il giro, il tour, uno dei due vedremo. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo, questa sera alle 21, il quarto appuntamento con Proteramo, un'ora insieme per parlare, analizzare il momento dei biancorossi di Federico Guidi. L'informazione del Tg6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.